L'incontro della rivoluzione del cibo Voi vi incavorate E vi date il dato di marco Vi diventate bollenti Perché avrete delle informazioni che non avete Dice cosa effettivamente sta succedendo adesso nel mondo E questa è una guerra Non è un gioco, uno scherzo E' una guerra fatta non di cartucce Ma di leggi e accordi politici E parleremo di una cosa che è chiamata il punto dei cento principi E sarà influenzata molto seriamente, molto pesantemente la salute Qual è la soluzione contro ciò? Prima di tutto dovete ascoltare le 21 ore di conferenza Dovete fare un po' di compiti a casa Come a scuola E poi queste cose le applicate nella vostra vita e nel vostro comunicare E tutto ciò che a voi risulta pratico Se tutta l'Europa ascoltasse questi 21 discorsi Io vi garantisco Che Monsanto in Europa chiuderebbe O qualsiasi di questi ricconi che fanno queste informazioni La questione è così seria Così problematica E la ragione per la quale gli ospedali sono pieni di gente col cancro E le stesse ditte che fanno i pesticidi Sono anche gli stessi che poi fanno le medicine per la chemioterapia E tutte queste medicine col cancro Loro ti fregano i soldi all'inizio E poi ti fregano i soldi quando fanno E non sarebbe sorpreso Se sono anche i proprietari del funerismo Non sarebbe sorpreso nemmeno di scoprire Che sono quelli che hanno le pompe funerari E sono parte dell'affare Del sembra che ti curo ma in realtà ti ammazzo Vi dà un esempio Loro dicono che attraverso le modificazioni generiche Loro possono incrementare la produzione del cibo Che possono anche diminuire l'ammontare dei pesticidi E che faranno anche semi che saranno resistenti agli erbicini E che faranno anche semi che saranno resistenti agli erbicini Questo super erbaccio è un problema Questo super erbaccio è un problema grosso E' ben conosciuto nella chimica Che chi prende una certa sostanza Lui sviluppa una resistenza per questo Questa cosa lo dicono al terzo esame di chimica di ogni scuola Però Monsanto dice No, noi non creeremo delle super erbacce Ma qual'è la realtà? Ma qual'è la realtà? La prima cosa è che la salute non è aumentata La seconda cosa E non è nemmeno stato ridotto l'uso degli erbicini Al contrario Al contrario Lo hanno incrementato E aumentato E la terza cosa E che queste super erbacce si sono diffusi ovunque E allora Le super erbacce hanno bisogno di avere altri Erbicidi di altro tipo E ora stanno usando dei nomi nuovi Ti ricordi? Ti ricordi? Sano dei nomi così DS34 Ma in realtà Questi nuovi erbicidi per le nuove erbacce sono più pericolosi E le donne quando danno un latte ai bambini C'è più livello di sostanze chimiche nel loro latte Più di quello che sarebbe dichiarato in occhio L'avvelenamento dalla chimica comincia con l'allantamento al seno dei bambini Quindi questa gente Dice solo bugia Ah dicono solo bugia Scusate Quindi cosa sta succedendo in America? E quindi E quindi in America sta uscendo fuori un movimento per il quale... Che è cosciente del cibo che mangia Vuole che esca fuori una regola Per la quale se ci sono cibi geneticamente modificati Questa cosa deve essere scritta Quindi in America c'è un certo tipo di votazione Perchè questa cosa rimanga a sottobanco Perchè questa cosa rimanga a sottobanco Ma hanno perso per togliere Ma in Vermont Ma in Vermont Che è uno stato dei cibo Allora quindi nel Vermont invece hanno vinto i buoni E allora queste informazioni verranno messe sulle confezioni di cibo E ora Monsanto sta facendo causa allo stato del Vermont E sta uscendo fuori una cosa che noi non la sappiamo però sarà il più grande conflitto nella storia dell'umanità E noi siamo tutti parte di questo E tutte le volte che andiamo al supermercato e facciamo un acquisto siamo parte di questa guerra Tutte le volte che compriamo un prodotto noi decidiamo di essere con Madre Terra o contro Madre Terra E il consumatore è molto importante E stiamo lavorando in tutto il mondo con l'alleanza globale in aiuto a Madre Terra Per stabilire che Madre Terra ha il diritto di essere protetta Quindi noi possiamo diventare degli attivisti Potete diventare un guardiano di madre natura E questa cosa sta succedendo anche in Europa E questa cosa sta succedendo anche in Europa Di fronte al Parlamento Europeo E sta succedendo anche in tutto il mondo E ora invece vi dico le buone novità E ci sono tante e sempre più persone che stanno in Angiosi Per esempio in questo convegno della Food Revolution Si sono segnati per partecipare centomila persone E quindi da lì si spagerà la notizia E adesso stanno ascoltando i centomila Quindi il movimento per i diritti di Madre Terra è un movimento molto importante Che è come il pacco cosciente mondiale Che connette le persone A che vedere con tapestry Che vuol dire tapestry? Ah, di fare un consenso Se voi fate un buco con un dito da qualche parte Non rompete niente Perché questo tappeto è sostenuto da così tante cose Che non è così vulnerabile Non è così vulnerabile Quindi è molto importante formare questo tappeto Questo tessitura Questo tappetamento E tutti siano parte di questo Come un guardiano di Madre Terra In modo da quindi creare questo terreno comune In modo da essere guardiani di Madre Terra Una cosa del genere è uguale a salvare la vita ai bambini Salvare la vita delle donne È come quando tu rendi una persona vegetariana E salvi 84 animali l'anno Quando fai diventare uno vegetariano E se noi togliamo la terra sotto il sedere sotto il sedere a queste compagnie chiudite È la stessa cosa che i vegetariani si fanno con gli animali È salvare la vita delle donne e dei bambini E anche degli uomini È proprio così Non c'è un'esagerazione Il Guru Maharaj dice che non è un'esagerazione Quindi se volete fare qualcosa nel mondo che sia buono per voi Che voi possiate dirlo ai vostri nipoti I started fighting against this when I was young Cominciate a combattere Ah, che gli possiate dire Io ho cominciato a combattere questa cosa quando ero giovane In modo da salvarsi sia il collo che la dignità Perché se non è così sia i vostri nipoti e magari anche i vostri figli E papà ti eri così imbecille da non capire cosa stava succedendo? Cosa cavolo stavi facendo? Stavi dormendo? Stavi giocando a calcio? Cioè il mondo stava andando in rovina In rovina e ti eri lì che non facevi un tubo? E Guru Maharaj dice ci stavo pensando quando eravamo lì nella croce E Guru Maharaj dice che qualche volta a causa del linguaggio è anche difficile comunicare I also know that in Italy there's many activists They're very powerful and many good organizations Guru Maharaj sa che anche in Italia ci sono tanti attivisti, tante grandi organizzazioni I think the organization Slow Food was started by in Italia Lui pensa che l'organizzazione Slow Food è fatta in Italia So it's not that people here don't know about this Quindi non è che la gente qui non lo sappia Però nel movimento i diritti della natura Noi abbiamo bisogno di tanti tanti attivisti Noi abbiamo bisogno di legali Come questo che stava parlando oggi In Colombia abbiamo un In Colombia abbiamo un Quanto è il nome Quanto è il nome E' una persona fantastico E' una persona fantastico Lui ha rischiato la vita un bel po' di volte Per salvare la proprietà dei nativi e della loro foresta Per salvare la proprietà dei nativi e della loro foresta Perché sappiatelo questa gente ammazza tutti quelli e gli sbarrino la strada E i proprietari di queste compagnie Sono tutti investitori Loro non lo sanno che Quelli che investono non lo sanno La mia società sta uccidendo la gente E' questo il problema con queste cooperazioni Di queste cooperazioni No, 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 no Corporazioni Corporazioni Eh? Yes Ha E' E' non c'è responsabilità individuale. Gli investitori danno i soldi e dicono tirateci fuori del guadagno. Le banche danno i soldi a qualche fondo di investimento e gli chiedono qual è un buon affare? Olio di palma. Ah questo è un affare veramente. Di quanto olio di palma abbiamo bisogno? Ne abbiamo bisogno di un miliardo di tonnellate l'anno. E questi l'hanno già venduto. Quanto ne abbiamo prodotto fino a ora? Ne abbiamo prodotto solamente il 50%. E quindi questo è un sicuro affare. E quindi facciamo crescere questa loro stessa. E allora loro si chiedono dove le piantiamo queste palme? Guardano la mappa al mappamondo. Colombia, Ecuador, Borneo, Madagascar. E nominano un po' di posti con il ditino e dicono ah questi sono posti molto buoni per fare venire fuori l'olio di palma. E allora chiamano qualcuno del governo. E chiamano qualcuno di quei governi locali e gli dicono noi abbiamo bisogno di produrre dell'olio di palma. Potete produrre dell'olio di palma per noi. E poi gli dicono però abbiate pazienza c'è gente che è lì che sta facendo altre colture e coltivazioni. E loro va bene e risolviamo un problema. E quello del luogo dice ci pensiamo noi. E quelli della corporazione dicono se svuotate, se togliete questi di mezzo noi compriamo la terra. E allora dicono underground means the barbarian people. Ah ok. You create terror in this area. Quindi create del terrore in quest'area. in modo che la gente venda. Quindi la gente che crea dello scompiglio del terrore in quest'area. Non lo sa che magari sta lavorando per un investitore tedesco. Non lo sa che magari sta lavorando per un investitore tedesco. e si inventano qualche bugia stupida. Oppure assoldano dei soldati professionisti. E quelli gente che fa tutto quello che gli ordini. il loro mestiere è uccidere. Il loro mestiere è uccidere. Il loro non è che ti chiedono perché ammazzo, come mai ammazzo. Ovviamente è tutto messo sotto mazzo. Questo mondo è pieno di bugie e viene fatto tutto nascostamente. Ma la cosa che viene fatta, la realtà è che che dieci anni dopo te vai in quel posto e non ci sono più coltivatori. Vedete solamente alberi di palma per l'olio. Gli animali non hanno più ambiente dove stare. Molte persone ammazzano lì. A qualcuno gli danno un po' di soldarelli. A qualcuno gli danno un po' di soldarelli. A qualcuno gli danno un po' di soldarelli. E a qualcuno del governo gli danno un po' di soldarelli. Se voi guardate in ogni prodotto che comprate e voi andate a vedere gli ingredienti e viene detto olio di palma. Ah, olio di palma. Come lo fanno questo olio? Ora sapete come lo fanno. Ma voi pensate che il vegetariano è buono. Ma questo è solo un esempio. Per esempio ora se state dietro al Messico voi sentite che ammazzano, ammazzano, ammazzano. Cosa sta succedendo? Michoacan è un grande posto di miniere. Ah, quindi c'è questo posto che è un posto di miniere. Quindi ora stanno passando tutte le persone da Michoacan per fare la miniera lì. E quindi cosa stanno facendo questi? Che stanno mandando via tutti quelli che stanno in Michoacan in questo posto. E la chiamano la guerra. Ah, la stanno facendo passare come guerra contro la droga. In America they say Oh, now Mexico has become worse than Colombia. E in America dicono Ah, il Messico ora è diventato peggio della Colombia. But the fact is in Colombia they already drove away the people and in Mexico they're driving them away right now. E l'unica differenza tra Messico e Colombia che in Colombia la gente l'hanno già mandata via. In Messico lo stanno mandando via adesso. Queste cose stanno andando avanti in ogni momento. I petrolieri, quelli che fanno le miniere, quelli che fanno il cibo sono tutti corporazioni. Questo è il karma del pianeta. È il vero Kali Yuga. E in questo Kali Yuga Chaitanya Mahaprabhu è apparso per dare amore e misericordia. Quindi i devoti devono essere parte di questo. Per risvegliare la coscienza delle persone e la loro responsabilità. perché noi adesso oggi stiamo celebrando l'apparizione di Sita. La gente non ha la più pallida idea del fatto che Madre Terra sia Sita, Bumi eccetera. In questo momento sono tutti assorti in quello che gli dice la televisione. E quindi siccome io oggi sono qui e siccome voi siete venuti ad ascoltarmi. Quindi io oggi ho fatto il mio dovere di agitarvi. però le mie parole non sono così agitanti quanto vi potrebbero agitare avere tutte le informazioni su questi fatti. A meno che voi non siate persone molto sensibili. E perché sennò già le mie parole vi dovrebbero aver convinto. che non vogliamo dare supporto a un sistema che non vogliamo dare supporto a un sistema che per profitto ammazza i bambini, le donne, la terra e l'acqua. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere solidari l'uno con l'altro. Qui abbiamo un sacco di terra nella quale possiamo coltivare le cose. E possiamo dare del cibo ai nostri bambini che sia organico. E dobbiamo fare tanto perché in ogni zona le soluzioni potrebbero essere diverse. Le soluzioni italiane non sono le stesse soluzioni che vanno bene per la Svizzera. E dobbiamo sederci tutti insieme e dire non comprate sapone. Perché questo sapone è contro la madre natura. Non comprate niente da queste grandi industrie. E dovete sostituire i prodotti con qualcosa che producete localmente. E potete dire per esempio ai devoti del Sud America mandateci la stevia così non abbiamo bisogno di usare lo zucchero bianco. E dobbiamo essere cose del genere insomma. Dobbiamo essere più solidari anche internazionalmente. Però non ci riesce di farlo. Non sappiamo come farlo perché non siamo gente di affaristi. Però qualcosina possiamo fare. Quindi possiamo fare qualcosa se qualcuno è interessato in Italia. Se qualcuno vuole essere parte di ciò in Italia. Specialmente nella coordinazione. specialmente se conoscete dei legali o siete voi stessi dei legali. Possiamo creare una connessione con voi. L'anno prossimo c'è Avas. Chi sa cosa è Avas? Avas è un'organizzazione che cerca sempre di aiutare chi è oppresso. E la Avas è quella che sosterrà la nostra campagna di firme dell'anno prossimo. Però abbiamo bisogno anche di gente che faccia fisicamente la firma. Questa cosa dipende da nazione a nazione. Quindi se siete interessati in queste cose. Doveste sedervi insieme e fare un piano. Dobbiamo spargere la parola, spargere la notizia. e speriamo di trovare qualcuno che ha un po' di più la mentalità del coordinatore. Non so' la connessione tra Mumtaito e l'Italia. Se c'è un po' di più la città, lo troverai. Sì, lo chiamiamo e magari lo può fare qualcosa. Ma bisogna anche di una persona di segretaria che sta in comunicazione. di comunicazione, di comunicazione, di comunicazione. Per il Guru Maharaj questo è quello che avrebbe fatto Prabhupada. Di mostrare al mondo che i devoti non solo parlano ma anche lavorano. Io ce n'ho una. Mi sono sempre chiesto questi proprietari di queste multinazionali che cosa si mangiano perché sono al corrente di queste cose. Dove vanno? Penso che vengono a comprare le cose a natura sì. Cosa è una cosa seriana? No, tra voi si chiedono. Quando... Oh, sì? Ci sono un po' di corporezione. O dove cattono queste persone? Cosa cattono? Cosa cattono? Perché fanno tutto questo amico? No, io penso che comprensano la natura sì. La natura sì che cattono per le persone. Perché se lo conoscono, si mangiano in modo giusto e si mettono i mali inchi all'interno. Tu sei vero, è una cosa molto incredibile e sono sicuro che molti investitori in Monsanto e le compagnie, si mangiano anche lo stesso pezzo. Ma è la cosa invece che dice Guru Maharaj, cioè riconosce che è una cosa ridicola ma ci sta che questi che fanno queste schifezze e poi si mangiano pure. È solamente tre settimane fa che la risorsa del governo americano ha pubblicamente ammesso che gli isofate produce il cancro. Hanno ammesso pubblicamente che si chiama l'idrosulfato che è un fettilizzante e produce il cancro. Gli isofate è il principale ingrediente del Monsanto Herbicide Roundup Ready. E questa sostanza cancerogena è l'ingrediente principale dell'erbicida Monsanto. E lo vendono ovunque nel pianeta. È una chimica mortale. Ovviamente lo vendono con nomi differenti. No. 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 L'erbicida è anche in altri prodotti. L'erbicida è un ingrediente. C'è un nome glisulfato, però no. È un ingrediente o no? No. Il numero uno ingrediente. Sì. Ma è anche usato in altri prodotti. Sì. Certo? Dov'è anche usato in un'erbicida in tuo garden? Dov'è anche usato in un'erbicida nel mio padre? Mi padre è rinforzato. Mi padre è rinforzato. Mi padre è rinforzato. Non usano. Il mio padre è usato anche sui papà. Lo usa anche sui papà negli orti. Ma è chiaro. Il mio padre è sempre parlato di un supermercato dell'erbicida speciale. SELL NATURAL TEENIS con NATURASI, NATUR YES. Travun sta domandando, questo devoto parla sempre di un super market che vende cose biologiche che si chiama NATURASI, però io credo che purtroppo questi produttori, anche i supermercati normali, hanno un prodotto, poi hanno un altro prodotto che è più naturale, perché noi siamo diversati, dei consumatori siamo un target, anche noi che consumiamo delle cose più naturale. And he feels that, he knows that in all supermarkets you find the normal product and the biologic product, because also vegetarians, also people, Conscious for the Food are a target for commerce. I know that we buy this. I don't trust, io non mi fido di questi prodotti, basta avere l'etichetta verde bio, non fido. Also, he does not trust also in this product with biological label or… i prodotti biologi in Italia, c'hanno solo una sede in tutta l'Italia, quindi i prodotti che viene fatto sia in Sicilia che sia in Alto Adige passano tutti da lì, vengono certificati e poi vengono di nuovo rispediti, quindi può essere che se uno compra un pomodoro biologico dalla Sicilia, viene rispedito di nuovo alla Sede al Nord, poi riportato di nuovo in Sicilia, perché viene certificato lì, poi riportato di nuovo in Italia. Quello non è biologico, non è biologico.